Qual è la possibilità di tornare? Quindi ho capito molte cose che magari in passato qua avevo sbagliato e a malincuore sono dovuto andare via Quindi adesso sono qua pronto, non sono più un bambino ambiziato come ero ma sono pronto a dar tutto Vi aspetto tutti a Tagliercio e carichi perché si inizia subito